Amici Trevi Meteo, ben trovati, sono Paolo Corazzola, al mio fianco il mio amico e collega Francesco Nuceri, esperto meteorologo ma anche climatologo, infatti in questa occasione ci parlerà un po', fare una bella chiacchierata sull'estate che è stata e qualche anticipazione anche sull'autunno. L'estate che si è appena conclusa con il 31 di agosto, un'estate che non è stata molto calda, un'estate che non è stata dominata come le precedenti dell'anticidio africano, un'anticidio africano che ha avuto poco spazio per via delle correnti atlantiche che hanno interessato il bacino del Mediterraneo, soprattutto nella prima parte. Quindi insomma un'estate che non ricorderemo come tra le più calde di sempre, in effetti se controlliamo le anomalie di temperatura a livello europeo ci accorgiamo che si è stata solo leggermente sopra la norma. Esatto, è una temperatura che mediamente oscilla tra 0,5 e 0,8 sull'Italia con un sovramedia maggiore sulla parte tirrenica, in media secondo l'81-2010 come livello climatologico sul nord Italia e sul tacco dello stivale. Però complessivamente anche sul resto d'Europa non c'è stata una grande ondata di calore, eccetto sulla Francia e i paesi bassi che sono stati interessati in agosto da una forte ondata di caldo, però il bacino del Mediterraneo è stato un pochettino meno interessato da questi anticidio africani che sono stati più soffiti. E però come precipitazioni, lo accennavi, correnti atlantiche un po' più sostenute, quindi soprattutto nella prima parte dell'estate abbiamo visto piogge più diffuse. Esatto, perché giugno è stato un mese piovoso e anche termicamente sottomedia per quanto riguarda molte zone dell'Italia, questo è inciso anche sulla pluviometria dell'estate, ma anche occasioni per delle precipitazioni si sono avute anche negli altri mesi. Le precipitazioni maggiori hanno riguardato il centro nord Italia, i Balcani, parte della penisola iberica, la Scandinavia, per cui sono passate queste perturbazioni atlantiche, mentre il mese di agosto ha visto una maggiore presenza dell'anticiclone e anche temperature più, in un certo senso, più calda. Sì, è stato forse l'unico mese di quest'estate in cui abbiamo un po' sofferto, diciamola tutta. Diciamo che è cambiata anche il tipo di circolazione, quindi maggiore presenza dell'anticiclone. Però adesso, altre notizie davvero interessanti, riguardo invece la situazione dei ghiacci artici, partiamo da questa immagine che ci mostra le anomalie inquadrando la terra in atmosfero dall'alto, quindi al centro vedete il polo nord. Il polo nord, perché questi anticicloni, il rosso, rappresentano in un certo senso il geopotenziale, quindi possiamo dire la pressione in quota, ecco, per rispettare in poche parole, che si è mosso dalla Siberia, che è stata una delle zone che ha visto molti record di caldo in questi ultimi mesi, verso il polo nord, dove si è creata una sorta di bolla, di blocco anticiclonico, non soltanto sul polo nord, ma anche sul Canada. Questa situazione ha determinato anche, ha inciso sui ghiacci, quindi il tipo di circolazione ha inciso sui ghiacci. Guardiamo adesso lo stato di salute dei ghiacci artici, che ancora una volta è purtroppo preoccupante, ma lo è in particolar modo quest'anno. Diciamo che quest'anno, bene o male, assomigliava molto al 2012, anche l'estensione si avvicinava molto al minimo, perché nel 2012 abbiamo avuto l'estensione minima per quanto riguarda gli acci artici. C'è stata una ripresa, in un certo senso, se possiamo dire così, fortunatamente, nel tuo periodo, però diciamo che segue l'andamento del 2012, infatti la linea blu, se si vede, mentre quella rossa tratteggiata è proprio il minimo che abbiamo raggiunto nel 2012, con un'estensione molto bassa. Insomma, ghiacci artici sempre in sofferenza, ma è necessariamente legato a un discorso di cambiamenti climatici, di riscaldamento globale. Appunto, come ricordavi, è stata notizia anche nei telegiornali in Siberia quest'estate, toccati anche i 30 gradi. Queste sono poi le conseguenze. Però un'altra cosa interessante riguarda il prossimo futuro, perché l'estate ci porta anche... Sì, diciamo che c'è un cambiamento per quanto riguarda il Pacifico e nel corso dei prossimi mesi è previsto il ritorno della nina. Esatto, questo raffreddamento delle acque superficiali del Pacifico vicino alle coste americane, che ha influenze poi anche a livello climatico. Esatto, poi ci ritorneremo su questo argomento nei prossimi approfondimenti. Invece magari può interessare almeno qualche indicazione di massima su come potrà essere questa stagione autunnale che sta per iniziare. L'autunno è entrato con il primo di settembre, è un autunno che dovrebbe essere caratterizzato da questa saccatura che interessa l'Europa centro-settentrionale, ma la saccatura arriverà anche sulla nostra penisola, in particolare sulle regioni del centro-nord, dove ci attendiamo anche una piovosità superiore alla media. Quindi un autunno magari un po' movimentato nelle regioni centro-settentrionali, invece il sud resterà probabilmente più ai margini. Quindi con un clima più secco, soprattutto sulla parte sud-orientale dell'Europa. Ok, va bene, insomma, poi ovviamente avrete aggiornamenti continui. Quindi grazie Francesco, come vedete, tante carne al fuoco, ma tanti argomenti davvero, a mio parere, molto interessanti. State con noi sul nostro sito, troverete altri approfondimenti. Quindi grazie Francesco e a presto. Arrivederci.